La comunicazione non è una pianta grassa, partiamo da qui, partiamo da quello che significa prendersi la responsabilità della comunicazione come relazione. Spesso le aziende cosa fanno? Tendono un pochino a pensare la comunicazione come una vetrina per i loro prodotti e quindi a lasciare poi che questa comunicazione si muova autonomamente, viva autonomamente come se fosse una pianta grassa. Non è così, assolutamente, perché? Perché la comunicazione è una relazione e quindi quello che serve alle aziende oggi è iniziare a farsi delle domande, cioè qual è lo stile di vita del mio consumatore, come posso capire come creare un vantaggio a questo consumatore perché la sua esperienza con il mio prodotto, il mio servizio sia di valore, sia percepita come un vantaggio e non come qualcosa che disturba o qualcosa addirittura che non è all'altezza delle aspettative. Ecco, spostiamoci dalle piante grasse e ragioniamo invece su come idratare la comunicazione, come portare ossigeno, sostanze nutritive alla comunicazione lavorando appunto facendosi una serie di domande. Dove sta il mio consumatore? Su quali strumenti? Com'è la sua giornata? Se il mio consumatore è una mamma, come passa la sua giornata? Come posso aiutarla senza farle perdere tempo? Partendo dalle domande giuste, quella pianta grassa diventerà un fantastico giardino tropicale.